Nel video di oggi andiamo alla scoperta dell'Opera 3 del gruppo Cavazzo. È un bunker di medie dimensioni realizzato in caverna e prevede un armamento di due fucili mitragliatori e quattro mitragliatrici. Incontriamo ora la caponiera per la difesa vicina dell'Opera. Qui invece la feritoia per la difesa dell'ingresso. Grazie a tutti. Questa è l'arma A1, una portazione per mitragliatrice su piastra a minimo spessore frontale. A lato il canale da fotofonica verso l'Opera 2 del gruppo Cavazzo. A lato il canale da fotofonica verso l'Opera 3 del gruppo Cavazzo. Questa è l'arma A2, una postazione per mitragliatrice su piastra piana. E' l'arma. No, 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 no. No, 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 no. Questa è l'arma A3, una postazione perimetragliatrice su piastra piana. A lato il canale della fotofonica verso l'opera 1 del gruppo Cavazzo. A lato il canale della fotofonica verso l'opera 2 del canale. Questa è l'arma A4, una postazione perimetragliatrice su piastra piana. 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 A4, una postazione perimetragliatrice su piastra piana.